Alla scoperta dei candidati per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese, siamo con il dottor Vito De Palma, candidato con Forza Italia. E allora, intanto, chi è Vito De Palma e soprattutto perché si presenta questa tornata elettorale? Sì, io sono, chi mi conosce sa che sono stato amministratore, continuo ad esserlo come consigliere comune di minoranza, amministratore al Comune di Ginosa, nella funzione di sindaco, ho rivestito diversi ruoli e funzioni all'interno dell'amministrazione di Ginosa e quindi dal punto di vista politico sono sempre stato nell'area di centro-destra e sono candidato nella lista di Forza Italia con coerenza e con continuità rispetto a un percorso politico che mi ha sempre visto da questa parte. Ecco, cosa rappresenterebbe l'elezione di Vito De Palma in regione, cioè le motivazioni che l'hanno spinta ad accettare questa candidatura? Quello che maggiormente mi dicono i cittadini, le persone con cui mi sto interfacciando in questa campagna elettorale è che finalmente qualcuno che conosce il territorio da Vetrana a Ginosa passando chiaramente per Taranto e quindi tutta la provincia perché l'esperienza amministrativa e anche quella professionale, sono un funzionario di un'amministrazione pubblica mi ha dato la possibilità di conoscere in lungo e largo il territorio tarantino. Il territorio tarantino è che ha bisogno di avere una rappresentanza in Consiglio regionale determinata e una rappresentanza in Consiglio regionale che conosca la macchina amministrativa perché spesso è uno dei punti deboli della politica. Grazie per la visione!